Ciao a tutti ragazzi sono CobraGamer e come potete vedere ragazzi siamo qui su Fortnite perchè reagiremo alla nuovissima season 3 capitolo 4 di Fortnite e prima di iniziare il video comunque ragazzi vi invito a spaccare il tasto del mi piace ragazzi di iscrivervi al canale con la campanellina e di condividere il video con tutti i vostri amici ragazzi che conoscete e se volete nel negozio oggetti utilizzate e inserite il mio codice creatore Cobra Hit ogni 14 giorni per supportarmi gratuitamente e io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare il video allora raga io direi di iniziare a fare una bella reazione veloce veloce al pass per poi andare in battaglia ok vediamo ok questa skin bella poi questo questo ramingo ribelle poi rian ok cosa sta roba ok rian relic 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 camminatore degli avissi molto bello mariposa poi mariposa di mezzanotte poi lorenzo lorenzo l'impetuoso traslazione ancestrale era senza tempo poi cannone a rotaia bellissimo poi avengers e finisce qua poi ricompense bonus dimono mariposa e poi qua gli incarichi un personaggio speciale miaoscolo fusa elise e poi la crew di fornit ragazzi e niente ragazzi ci vediamo in game ok ragazzi eccoci qua ragazzi questa qui come potete vedere è la nuova zona e perché non buttarsi proprio al centro in questa nuova zona così c'è più c'è più atmosfera ci sono più nemici c'è più gente da da killare ragazzi comunque scusate se sarò anche un po' nabetto però guardate anche da molto tempo che non gioco a fornite quindi magari ok ragazzi atterriamo in questo tetto tranquillo prima arma cos'è sta roba fucile m u figo vediamo se ok e vabbè fucile d'assalto mk alfa ok e di qua moriamo e comunque ragazzi sono stati anche aggiunti come si chiamano i veloci raptor ho sentito un suono strano ok prendiamo sa chest vediamo un po' quest'arma ah no è il vecchio la vecchia arma ok pompa fin qua le armi le conosciamo tutte si ma scendiamo da qua che cosa c'è ok strane cose ci sono no 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 mai andare su va qui ci muoio in un secondo sicuro me di nebbia no 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 ancora spermo lo posso addestrare tipo sì sì che lo posso ma io però no 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 via 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 missica che che salto ah meno male che non c'è gente comunque perché sennò con questi dinosauri con tutto non ci riusciamo più fuori no ma c'è un altro nostro cos'è questo ha il pompa che piace a me l'hanno rimesso incredibile il pompa che piace a me raga con lo spalmone dove ci morivo in tutte le partite per colpa dei nemici che spammavano da un po esplorare da andiamo ad esplorare qua non c'è gente quindi possiamo tranquillamente andare a conquistare la città cos'è cos'è sta roba schiudi non è che nasce un dinosauro qui si guardano ragazzi non l'abbiamo che abbiamo preso no io voglio lui voglio l'altro via mangia la carne curati bravo dobbiamo ancora fare la prima che il della season tra l'altro ma vai abbiamo sbaglio sentito un rumore di delta plano non so perché dopo ragazzi andremo ad esplorare soprattutto queste zone che mi dicono che ci sono abbastanza abbastanza cose ci sono tipo dei tempi non so cosa ci sia ancora perfetto vediamo pistolina tattica e il cobra no dmr strano che non ho mai visto ma sbaglio il mini nebbe l'avevano tolto boh alla ricerca di nuovi nemici qui cosa c'è no non vorrei morire in una trappola cos'è sta roba uh dai oggetto cosa do forse devo scambiare qualcosa sì e che è successo sacrifichiamo la pistolina vediamo cosa ho fatto non lo so si sta prendendo una strana porta mio 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 che figa sta cosa che dai delle armi mamma mia cos'è sta roba meglio questo al bar no raga vorrei prima utilizzare un po questo con fucile nuovo mamma mia non sapevo sta cosa ora ancora ancora niente persone comunque stranamente poi questa è la nuova zona in teoria una cosa è la mitraglietta nuova sì la mitraglietta nuova sbaglio l'hanno riaggiunta forse c'era buono lo so allora raga io direi di andare un po alla ricerca di nemici perché mi sto proprio leggermente annoiando cos'è sto coso oddio ma è la cosa della puzza ok cosa c'è lì di bello vediamo ascolta registrazione audio il fango oddio o mio dio porca miseria no 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 stai scherzando vero c'è tu mi vuoi c'è proprio per la prima kill che devo fare mi spunta proprio un pro ma stiamo scherzando c'è mi ha distrutto raga si nascondeva nel fango secondo me adesso sto infamello l'unico modo è nascondersi a camperare non mi dire che il nome ha pure killato il dinosauro no way io vorrei scappare no no eccolo porca di quella miseriaccia ma quanto sono scarso da 1 a 10 ce l'ho dietro oh cavolo 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 dove sono dove perché non lo so ti prego scappa scappa oh 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 non tornerò mai più in queste zone non tornerò mai più in queste zone questo me lo ricorderò per tutta la vita di fornite no way raga con 9 di vita sono riuscito a scappare ma allora com'è che ti puoi nascondere nel fango com'è che si fa cioè io volevo solo far la mia prima kill e mi spinta un tizio da sottoterra che mi ammazza cos'è questa mia ragazzi cos'è cos'è ma che è suon venom cos'è quella roba lì se io direi di andare a esplorare il recinto rivolo guarda avevo pure finito i mazzo porca miseria quanto va veloce quanto va veloce ditemelo prima che andava così veloce un attimo che devo far mazzo guardate non ho più neanche un dinosauro che mi protegge ragazzi ma come si fa ma come si fa spero che ci siano delle uova per il mio dinosauro vediamo dove sono le uova oddio oh mio dio oh moto ma non le avevo rimosse le moto mamma mia spero che io possa killarlo vediamo se riesco a farla nuova ok ho distrutto mamma mia ragazzi prima kill in 13 madonna siamo già in top 13 io per sicurezza me li piglio sti scildini ha comunque è pieno di sorprese in questa nuova season raga è pieno di gift ehm vabbè teniamo i scildini per ora eh io però il pompa martello no si martello tamburo lo terrei eh c'è tanta roba questo perché se lo sai usare gli spammi un botto potresti killarlo in meno di un secondo uh cassa leggendaria attenzione oh mitraglietta che ce l'ho già attenzione sacrifichiamo questo questo è un ottimo posto camper se faccio così eh però non sono in safe cosa c'è qui invece? ancora ecco prima apriamo questo per vedere se possiamo sacrificare altro ecco sacrifichiamo la mitraglietta e qui aspettate cos'è qua? cos'è sta roba? ma re scusate ma qua è pieno di sorprese è pieno di passaggi segreti dai dobbiamo sbrigarci che è già partita la safe non devo morire come l'udotz che è morto dalla tempesta grazie mille muovetevi però cioè quindi io ho sacrificato tutte queste armi per delle tombe? oh mio dio è pieno di insetti stranissimi no 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 non voglio morire come ludo per favore per favore per favore ma solo io non ci capisco niente questi edit ah meno male finisce qua la tempesta no 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 è il nemico di prima sicuro guardate come scappo no c'è pure gente lì sotto non è tempo di morire anzi forse perché siamo già in otto chi ti ha chiamato rift proprio la mia salvezza proprio è troppo pieno di nemici vedete qua sicuramente sarà pieno di nemici però è pieno di di costruzioni però io sono curioso però secondo me è troppo rischioso ho fatto pure la rima qua non c'è nessuno vero zitti cosa è sta arma dov'è sta jump meno male secondo me la buona la buona cosa da fare è camperare sotto il ponte oh questo posto perfetto adesso guardate siamo in pace qui oh attenzione però siamo in safe qui eh si si ragazzi mi sembra un ottimo posto per continuare a camperare ma lì cosa c'è eh però potrebbe essere un problema questo ma giusto potrebbe non so perché sapete che vi dico io vado sopra nel caso dovessi morire cioè in realtà nel caso dovessero attaccarmi attenzione vedo qualcuno spero non mi abbia visto ecco 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 è un problema è un problema questo è un problema perché ce l'abbiamo davanti ecco mi hanno visto qui cosa volete da me cosa cavolo volete no la tempesta no la tempesta la tempesta ti ho detto è qua sì vabbè scusa solo me da dietro il muro vabbè era tutto un casino pure da dietro mi era venuto vabbè ragazzi secondo me il video può bastare così ragazzi mega mega partita e niente ragazzi noi ci rivedremo in un prossimo video bella a tutti mi raccomando seguitemi eh